Il termine elegia indicava inizialmente qualunque componimento il cui metro era artistico elegiaco. Il termine orientale dello strumento interprete darebbe il nome a questo tipo di componimento, ma non mancano altri apostesi degli antichi, secondo i quali elegia ne redirebbe da elegios, cioè con il significato di lamento funebre. Il suono dello strumento accompagnava la recitazione, e l'eseguito in diverse orientazioni e centrati intorno al momento del simposio. Il compositore Michele Magari ha messo in musica in una chiave più moderna tutte queste sensazioni e ci propone la sua pagina d'album, interpretata al clarinetto dalla maestra Stefania Torri. Il compositore Michele Magari ha messo in musica in musica, Il compositore Michele Magari ha messo 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 in musica, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti